Si riparte dalla prima categoria con l'allenatore che fu in qualche modo la guida di quella salita e tu cosa dici, ci sono le premesse per questa ripetizione dell'impresa di allora? Non so se si ripeterà di nuovo un'annata di quel genere, sicuramente quest'anno a differenza di quell'anno abbiamo cambiato parecchio e quindi tutto sarà più difficile. Il nostro intento è sicuramente quello di fare un bel campionato, possibilmente un campionato di vertice, però come dico sempre e come dico anche ai miei giocatori, noi dobbiamo cercare di andare in campo e mettere in pratica tutte quelle cose per cui ci alleniamo intensamente durante la settimana. E poi sarà il campo che è lui quello che dice, quello che saranno le nostre ambizioni, quale sarà il nostro valore e dove potremo arrivare a livello di campionato. Senti, differenze principali saranno grosse, saranno tante oppure no rispetto all'ultimo Ceprana, quello dell'annata scorsa che nello scorcio proprio finale tu peraltro hai anche guidato, oppure forse è più giusto dire quali le differenze principali rispetto al Ceprana di due anni fa, quello che appunto fu protagonista di quella cavalcata chiusa con la promozione? No, io quello che ho notato tra la squadra dell'anno scorso e quella che sto cercando di mettere insieme e che spero che poi mi dia i frutti che io mi aspetto, è quello che l'anno scorso era una squadra che non era molto unita, una squadra che ognuno remava da qualsiasi parte, insomma, non si remava tutti per cercare di raggiungere un unico obiettivo. Questa che ho cercato di mettere insieme, proprio riportando anche giocatori che due anni fa erano qua con me, è quella di creare un gruppo coeso, un gruppo unito, un gruppo che veramente lotti uno per l'altro, che si diano una mano, che è quello che poi a questi livelli sicuramente li fa anche ai grossi livelli, ma qui ancora di più fa la differenza.